Allora iniziamo davvero la sessione che come sapete sarà dedicata questa prima parte del pomeriggio all'emersione del fenomeno della tratta, cioè il complesso, il complicato processo di identificazione delle vittime e dagli interventi che mi sono stati anticipati, sarà in particolare sui richiedenti di protezione internazionale, richiedenti asilo, ma non solo ovviamente. Io mi presento, sono Marco Sisti, direttore dell'IRES Piemonte. L'IRES Piemonte è un istituto di ricerca che si occupa di tante cose, ovviamente dall'ambiente all'economia, la salute mentale, la sanità, eccetera, eccetera, ma in particolare a una linea di attività appunto sui temi legati all'immigrazione, sulla questione della tratta ha già diversi, ha già al suo attivo diversi progetti, questo, quello attuale, l'anello forte, nel quale diciamo tentiamo di coniugare il rigore analitico, tipico di chi fa ricerca economica e sociale, con invece un impegno attivo nel portare avanti politiche e progetti a fianco delle istituzioni impegnate. Insomma, una sorta di, passatemi il termine, di ricerca militante, non ci accontentiamo di osservare i fenomeni, ma in qualche modo cerchiamo di contribuire con tanti altri soggetti a modificarli, cercando anche di produrre conoscenza utile a migliorare, diciamo, a rendere più consapevoli le decisioni che vengono assunte in quest'ambito. E questo è anche un po' il senso di questo convegno, di questo momento di confronto. Per cui, prima che me ne dimentico, quindi ringrazio quel manipolo di ricercatori militanti che rendono possibili tutti questi. Non faccio i nomi perché ho paura di dimenticarmene, ma se non li conoscete già imparerete a conoscerli in queste ore. A loro veramente il mio grazie è più sentito, perché appunto uniscono al rigore un impegno e una passione per quello che fanno, che ci facilita molto i compiti.